Namaste io sono Ace the Brave bentornati ad un altro episodio di Rollercoaster Tycoon 3 è un episodio 1 diciamo perché è la terza stagione in cui andremo ad affrontare gli scenari delle espansioni wild che sono questi 12 scenari iniziamo dal primo vedete l'ho già completato ma lo iniziamo si chiama i giardini intanto che carica appunto vi dico che in sovraimpressione potete trovare tutti quanti i soliti link per potermi contattare i vari social network mi raccomando iscrivetevi in giro perché le informazioni le do un po' ovunque ci possiamo tenere in contatto tranquillamente e direttamente soprattutto con me perché mi piace rispondere a ciascuno di voi personalmente vediamo un po' Rollercoaster Tycoon 3 dopo aver appunto visto la campagna principale e la campagna soaked quindi quella che aggiunge le piscine abbiamo la campagna wild che sono questi 12 scenari in più che aggiungono praticamente una zona zoo la possibilità di aggiungere gli animali particolare perché ci sono altri giochi che ricordano lo zoo e ad esempio Zoo Tycoon che è forse il primo che mi viene in mente è un sistema abbastanza complesso non ho ancora giocato quindi cercherò di impararlo anche un po' insieme a voi ma in realtà non ci vuole tantissimo cercherò comunque di seguire quello che è più o meno il tutorial di questa missione qua quindi vediamo pure che cosa ci aspetta nello scenario i giardini benvenuto ai giardini luogo ideale per la tua prima esperienza nell'organizzazione di attrazioni con animali assumi la direzione di questo piccolo ma popolare parco impara le basi quello che dobbiamo fare sono obiettivi completamente diversi perché dobbiamo avere quattro gallerie di osservazione ne abbiamo due tra l'altro ci viene detto il livello attuale di alcune cose il valore minimo del parco deve essere di 65.000 visitatori gallerie di osservazione degli animali 50 quindi più o meno come le piscine cosa dice qua sono i visitatori e gli animali di una specie zebra e gli animali della specie leopardo quindi adesso vediamo un po' che cosa ci aspetta in questo parco che come vedete è bello costruito questa è l'entrata molto particolare e abbiamo subito questo che cos'è questa attrazione qua credo sia questa stazione qua esatto è la stazione degli elefanti che è 3.90 facciamo 3.50 dai in modo che ci sono questi elefanti che vanno in giro per tutto questo percorso che vedete qua in questo momento non mi sta funzionando la D quindi non posso muovere più di tanto mi muoverò sui lati vedete che fa tutto questo giro qua dietro arriva qua dietro c'è l'altra stazione e ritorna indietro a questa parte tutta la parte dietro è gestita da questo roller coaster doppio come potete vedere che è un'aggiunta di wild 6.50 facciamo 6.40 vediamo anche se riusciamo a farci un giretto così quasi come vedete è sul lato praticamente cambiamo magari telecamera vedete che vanno insieme in questo momento è abbastanza funzionale doppia entrata entrata e uscita insomma abbastanza particolari e l'altra cosa che vi posso mostrare è il fatto che c'è tutta questa zona centrale invece che è il vero e proprio il vero e proprio pezzo degli animali o meglio se voi infatti cliccate qua potete mettere il recinto e quindi possiamo ad esempio ampliarlo in qualche maniera farlo più grande o farlo ancora più grande in modo che vedete si espande in qualche maniera non posso costruirli uno dentro l'altro vediamo subito potrebbe essere utile facendo così ne faccio uno a parte che è una cosa utile se facciamo così se tolgo questo tolgo questo tolgo questo tolgo questo e facciamo così ok questo mi servirà per dopo perché più o meno questo l'ho già visto ed è una cosa abbastanza importante intanto questo lo ricompletiamo abbiamo i recinti abbiamo la visuale delle caselle eventualmente se possiamo mettere o no vedete che queste sono le caselle che fanno parte del recinto quindi dove possono andare gli animali fondamentalmente abbiamo gli alloggi per gli animali che sono carnivori elefanti scimmie grandi erbivori giraffe e piccoli erbivori ciascuno diviso con alcune cose tipo l'osso grizzly pantera eccetera 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 e le gallerie di osservazioni invece sono queste qua che vedete qui queste due che sono delle vere e proprie attrazioni hanno anche il loro costo tra l'altro e semplicemente andiamo ad aggiungerne vedete che c'è praticamente quella piccola quella media e quella grande quella grande è questa qui quella piccola quella media la possiamo mettere qua la aggiungiamo pure così abbiamo un altro punto d'osservazione che dovrebbe essere dovrebbe essere quello necessario intanto dovrei selezionare ciascuna e aprirla lasciamo pure sui 3,90 non ho idea di come gestire il prezzo di queste cose tra l'altro e in fondo abbiamo gli accessori per animali quindi palle pupazzi rocce che possiamo piazzare oggetti di scenografia soprattutto tra l'altro anche delle scatole molto semplici con cui possono giocare per appunto gestire tutto quanto il parkour la cosa importante importantissima questi alloggi che vedete qua abbiamo la laggio degli elefanti qua sopra quello degli erbivori quello delle giraffe e ce n'è uno dei grandi erbivori lì in fondo e il problema è che se adesso mettiamo uno degli obiettivi è mettere e volevo stare attento appunto per quello uno degli obiettivi è mettere le zebra e le zebra sono degli animali sono dei piccoli erbivori no sono dei piccoli erbivori sono questi grande erbivori di qua piccoli erbivori di qua eccolo qua le zebra quindi le zebra le possiamo aggiungere non possiamo aggiungere però i leopardi perché nel momento in cui mettiamo i leopardi incasinerebbe quello che è il nostro ecosistema nel senso che si comincierebbe a formare un po di casino quindi piuttosto prevediamo un altro tipo di cosa ovvero non so se funzionerà ma ci proviamo voglio togliere una zona qui più o meno grande così facciamo ancora un po più grande facciamo così e ci aggiungiamo dentro uno di questi forse un po troppo piccola facciamo una di queste e lo aggiungiamo così in modo che abbiamo una zona interna e qua ci aggiungiamo questa in modo che qui avremo una cosa specifica per i grandi anzi questa sistemiamola un po meglio quasi quasi per i carnivori vorrei aggiungere questa ma messa non funziona la tastiera in questo momento quindi non posso girarla e vabbè lasciamola così allora ok questa dovrebbe funzionare spero funzioni in qualche maniera non credo quanto ho bisogno sì ci sono questi ma in realtà non ho bisogno di nessun collegamento particolare è semplicemente un non c'è un cancello esterno in qualche maniera no è semplicemente un'altra area assegnata più o meno come come quella dei delle piscine quindi sto imparando con voi è questa cosa un'altra cosa è che se adesso io faccio play intanto abbiamo le quattro osservazioni perché ho messo queste altre due e adesso dobbiamo alzare un po' il valore del parco quindi magari costruiamo qualche attrazione che possono essere vediamo la il giroplano e queste invece le andiamo a mettere vicino all'entrata quindi fuori dalla zona la zona presidiata da sto dicendo un sacco di cavolate no ok fuori dalla zona che sta qua la zona zoo sacco di tempo per cercare di tirar fuori questa parola apriamo di qua e apriamo qua facciamo 3 e 70 e mettiamo il nostro patio d'uscita aggiungiamo ancora qualche attrazione magari aggiungiamo abbiamo le punti informazione ci mancherebbe magari qualcosa per mangiare bere eccetera quindi intanto pensiamo ad altre attrazioni che può essere la mitica giostra dei dinosauri che possiamo andare a mettere io metterei qua dietro con l'entrata l'uscita l'uscita la facciamo così l'entrata la facciamo così questa la apriamo dovrebbe essere da poco 1 e 87 facciamo 1 e 50 1 e 60 e intanto abbiamo il primo livello perché abbiamo aumentato la nostra popolarità per arrivare a questo punto adesso ci daremo un'occhiata questa l'abbiamo fatta salire vediamo di aggiungere un paio di cose che sono i giocatori safari ad esempio il problema è che non avendo z non posso ruotarla più di tanto e magari aggiungiamo il pollo qua dietro e per farlo devo fare così ok possiamo anche cliccare in parte per poter fare questa cosa e ok sono le prime due attrazioni l'altra cosa che possiamo fare intanto abbiamo 73 mila di valore minimo quindi dobbiamo aggiungerlo i visitatori delle gallerie sono 60 e stanno aumentando dobbiamo arrivare a 200 dobbiamo avere almeno cinque zebbre tre ce ne sono e andiamo a metterne altre due per farlo dobbiamo cliccare sempre qua andare nel nostro menu apposito e sotto alloggi per animali no devo andare sotto che cosa per precisione vediamo subito qui qua sotto dopo appunto le piscine c'è acquista animali e recinti i recinti sono praticamente la stessa cosa che cliccare su un recinto questi invece sono gli animali effettivi che avete a disposizione apro il discorso zebra prendo una zebra maschio e la andiamo a mettere e posizionare qua dentro e questa è la zebra tra l'altro ha un nome ha una serie di dati si chiama zebra delle pianure adolescente c'è il suo costo di adozione si chiama indro e tante tante cose mettiamo anche una zebra femmina che si chiama zelda tra l'altro bel nome scelto e abbiamo semplicemente possiamo popolare la nostra cosa non possiamo metterne troppi fondamentalmente questo l'abbiamo fatto quante ho bisogno di due leopardi che in realtà è molto facile da fare dobbiamo aumentare il parco aumentare il valore del parco e quindi le persone e quindi le persone che andranno a vedere lo zoo quindi fondamentalmente possiamo aggiungere magari anche un roller coaster vediamo se ce n'è uno di wild c'è solo l'oltovolante doppio mi sembra e la caduta folle vediamo un po come sono fatti questo è praticamente il sequoia adventure di gardanald questo è da 580 questo è da 2 vediamo se riusciamo a mettere questo dovrebbe essere molto piccolo si lo è e molto molto piccolo almeno in una delle dimensioni possiamo ruotarlo e metterlo per lungo cos'è possiamo metterlo qua fuori ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta qui ad esempio quindi io toglierei un po' di questo 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 sentiero qua e lo andiamo appiccicare qui ok così abbiamo questo e andiamo a mettere un attimo in prova tra l'altro c'è un macello di di stazione questo è da 580 facciamo 5 e 70 lo apriamo e andiamo adesso a mettere l'entrata quindi entrata e uscita la facciamo diretta e qua io metterei qui possiamo passare da qualche parte no per passare devo fare una cosa di questo tipo quindi magari facciamo tanto siamo già a livello superiore perfetto è proprio perché il primo quindi siamo veramente facilitati da un certo punto di vista qua facciamo così togliamo questi ok e qua ci mettiamo tutto ci mettiamo più negozi possibile ma adesso vediamo qui abbiamo 111 mila quindi siamo già al praticamente limite superiore ancora le persone stanno ancora arrivando vediamo di aggiungere allora quelle che sono la limonata mettiamo qua mettiamo un pallone e per adesso basta e ci aggiungiamo anche un'altra attrazione tra attrazione tra poco ma insieme volevo provare a fare a mettere dentro i leopardi quindi sotto leopardo vorrevo un maschietto e una femminuccia sperando che gli vada bene questa dimensione qua vedete che questo è completato qua c'è il ce ne sono due tra l'altro ci sono due cacciatori che vanno in giro e un'altra cosa che non ho notato è effettivamente guardate qua quanta gente c'è come personale abbiamo due meccanici che sono anche belli istruiti quindi vedete che si concentra molto su questo abbiamo una guardia che è una cosa che non avevo che raramente faccio vedere gli intrattenitori che ce ne sono sono tra l'altro vestiti a tigri tutti e due una tigra un po più chiara una un po più scura e poi abbiamo i custodi che ogni volta che mettiamo dentro un custode e tra l'altro sono anche questi istruiti dovremo praticamente utilizzarli al meglio in modo che possono dare da mangiare possono allevare le nostre bestie in modo da non farle morire perché possono anche morire effettivamente ma comunque dovrebbe aver funzionato questa mi sembra una zona che potrebbe funzionare per i leopardi a quanto pare come si chiamano i ragazzi qua tra l'altro tu ti chiami leone leopardo e luna leone e luna i nostri due leopardi che sono qua a farsi vedere dai nostri visitatori luna è sempre pulito quindi vuol dire che lo guardano e riescono a vederli da qua ottimo quindi devo dire che ha funzionato questa cosa mi fa molto piacere i visitatori sono quasi 350 stanno arrivando il valore del parco manca ancora 10.000 quindi in teoria mancherebbero un paio di attrazioni forse una forse due vediamo di aggiungere che cosa la torre vacillante che è un'attrazione che a me piace tantissimo cioè è una cavolata di attrazione però è molto bella cioè è bella e la mettiamo qua e tra l'altro è gigantesca l'entrata e l'uscita vediamo di aprirla 4.09 facciamo 3.80 ok e vediamo di aggiungere quello che è l'entrata ok e l'uscita da mettere qua molto bene come siamo adesso come livello 116.000 dovrebbe ancora aumentare tra poco vediamo di velocizzare anche questa cosa 116.000 si deve aggiornare 122.000 ci siamo quasi l'orso ballerino fermo 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 il festival internazionale del rock salviamo l'orso ballerino avrà inizio tra un mese per l'occasione vendi 10 orecchie d'orso per ottenere il massimo di aposità dal chiosco il cappello safari tra l'altro te lo dicono almeno questo ho i cappelli safari da qualche parte? il cappello safari eccolo qua adesso ne riempiamo ne mettiamo almeno uno qua perfetto ne mettiamo uno sull'altro lato qui e ne mettiamo uno qua sopra e ne mettiamo uno anche qua sopra sta? starebbe qui quindi vediamo di girarlo mettiamo qua ok e vediamo se ce la facciamo a vendere questa cosa intanto vediamo ancora il nostro valore che è 122.000 in teoria dovrei riuscire a farci stare qualcosa qua tipo lo scivolo il mitico scivolo gigante che fa il suo prepotente ritorno però non possiamo farlo stare se prima non tiriamo via questo questo lo tiriamo almeno uno lo tiriamo via dovrebbero bastare tutti quelli che ho messo qua facciamo così e questo lo apriamo e questo è il mitico da 2 quindi facciamo 1.80 facciamo 1.90 perché se non sbaglio qua verrà tante persone quindi magari cerchiamo di tirarne via qualcuno qua siamo sempre sui 122.000 abbiamo raggiunto anche la galleria d'osservazione quindi anche quelle a posto dovremmo essere già verso la fine è un episodio a corto ma è il primo diciamo di questa serie nuova abbiamo scoperto cose nuove e nuovi spunti nuove cose che potete scrivere intanto qua nei commenti per vedere altre cose intanto abbiamo anche raggiunto il livello magnate quindi ottimo per altri spunti e altre cose e se volete scrivere anche cosa vorreste vedere nel parco quello che farò dopo tutti quanti questi sarà un parco completamente da zero però vorrei che vi concentraste su quello che volete vedere su questo parco che vorrei cercare di affrontare in una specie di carellata di tutti quanti i parchi con questo è tutto quindi ci vediamo nel prossimo episodio di Rollercoaster Tycoon 3 io sono East Brave come al solito vi saluto con Namaste and be brave mi è venuto tantissimo a sto giro wow ciao 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 ciao